Io sono Luca, il Ghiglio, i miei collaboratori di oggi saranno, ah beh, aspetta ragazzi, c'è Ilaria che sarà la nostra fotografa, Cristiano Guarco, giornalista, maestro di mountain bike e guida, è un sito per i sentieri, è messo in Val Curone, sono dei sentieri delle traversate molto carine, Marco Luzzara, maestro di mountain bike, ah noi siamo maestri federali, la federazione ciclistica italiana, Marco Luzzara è il mio collaboratore maestro di mountain bike, Paso Guida è il mio collaboratore per questo corso, perché facciamo questo corso? Perché come voi ben sapete i sentieri non nascono da soli, ci sono delle persone che ci lavorano per la costruzione e manutenzione, oggi vedrete i sentieri di Nattano, ma qui ci sono degli altri spot bellissimi che vi consiglio di venire a visitare. e quindi il ricavato di questo corso andrà devoluto a questi ragazzi. non dobbiamo permetterci di non sapere cosa fare qua, questo pezzo qua vi fa capire la differenza tra il sapere, non dire andare in vici, ma sapere cosa devo fare, cosa sto facendo al cazzo l'ho fatto, bello mi sono divertito e poi mi chiedo ma perché quella curva il mio amico davanti in quella curva mi dà via? Perché in quella curva cado sempre? Perché non sapevo cosa stavo facendo, mi è andata bene dieci volte ma mi può andare male dieci volte ok? un corso serve per quella curva deve andare bene dieci volte, anzi l'undicesima deve andare meglio, la dodicesima ancora meglio. ecco il punto, piede, piede, carica bene, non hai fatto il piede, carica bene il piede davanti, bravo, piedi, ricordati sempre, in cambio?". Davide. l'occhio troppo dietro! piede, bravo, vieni! Prende. Abbeh! Prima ora adesso è quanto lo faccia, adesso adesso prese, mi fa vede, Cuc莉! Se non è ov tomato, Piedi, piedi, frenato il corpo, piedi, 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 hai cannato completamente i piedi, piedi, bravo, segui, preparati, cambia, bravo, segui, cambia, bravo, segui, cambia, نا façà, maio, 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 aseroz poter. Musica Sì, non è vero, ma non è vero. Quasi di pescati, di pescati! Dai, morta! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Eh, ma che bello! Esatto!